Quando ero giovane ho visto un canguro grandissimo. Era la fine del 1960 prima che Donald Trump diventasse presidente. Quel canguro non solo era grandissimo ma aveva una frase tatuata sul petto. Era un canguro molto alla moda. Quella frase era stay hungry non mangiare tutte quelle patatine così poi ti gusti di più la pizza. Quella frase mi ha segnato profondamente soprattutto per il fatto che il canguro poi mi ha dato un calcio fortissimo in faccia e sono svenuto. Mi sono risvegliato in un ospedale non avevo più i denti la faccia le braccia il corpo e le unghie ma questo mi ha dato forza. Ed è stato lì che mi è venuta l'idea di inventare il Mac, l'iPhone, Google, YouTube, la macchina da scrivere, Google, la macchina, l'aereo, il prosciutto crudo e soprattutto YouTube. E senza YouTube non avremo i video di Sio che sono i miei preferiti infatti compro sempre anche tutti i suoi fumetti e ne è uscito uno e ne dico la proprio oggi. Scottex Magazine 8. Bellissimo. Ricordate quelle parole che vi siano di ispirazione e magari un giorno diventerete anche voi come me, morto. Stay hungry non mangiare tutte quelle patatine così poi ti gusti di più la pizza. Iscrivetevi al mio canale!